Figlia di Marino Mazzacurati scultore e pittore. Si trasferisce a Roma nel 1949 per seguire i corsi di recitazione presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Diplomandosi nel 1953, suoi compagni di corso erano Monica Vitti, Luisa Rivelli, Nando Cicero, Giulio Paradisi. Nel 1951 aveva già avuto una piccola parte nella pellicola Articolo 519 Codice Penale, diretta da Leonardo Cortese. La sua carriera proseguirà per circa un decennio con 14 film girati, sino al 1964 quando decide di abbandonare l'attività, dopo alcune partecipazioni anche nella prosa teatrale.